Sapevate che la data della Pasqua dipende proprio da lei? Ciao a tutti, io sono Barbara, sono un'astrofisica e una divulgatrice scientifica. Vi racconto appunto il perché la data della Pasqua cambia ogni anno. Dipende da due fattori, uno dall'equinozio di primavera, la Pasqua infatti non potrà mai essere prima dell'equinozio, e poi dopo l'equinozio bisogna aspettare appunto la prima luna piena. La domenica successiva alla prima luna piena sarà esattamente la domenica di Pasqua. Vi auguro che sia una serena giornata e mi raccomando, mangiate molto cioccolato. Ciao a tutti!